Non è la prima volta che i residenti di camminate a Fano denunciano lo stato in cui versa la frazione. Questa volta gli abitanti sono a segnalare una frana che si è creata durante lo scorso maltempo in strada delle camminate poco più avanti del cimitero. Una strada frequentata sia dai residenti ma anche dai ciclisti e pedoni per non parlare degli agricoltori locali alle prese a breve con l'inizio della trebbiatura. Io ho la strada che vado a finire nell'azienda e un mese fa vedo che è intrasenata la strada e diciamo e più avanti c'era una frana che la strada era interrotta. Dopo è già passato un mese io devo passarci per trebbiare non posso passare ditemi voi dove posso passare. Lei Eliseo ha chiamato diverse volte in comune che cosa le hanno risposto? Sì sì ho chiamato la settimana scorsa ho richiamato mi facevano sapere e non ho fatto sapere niente. Dice aspettiamo che asciuga ma asciuga io devo passare come fatto come faccio passare poi niente io aspetto che sta strada benedetta che viene ripristinata prima possibile perché io devo trebbiare. Se la strada non verrà sistemata nel giro di alcuni giorni il signore Eliseo perderà il raccolto del grano nel suo campo. In più non sono presenti altre strade per arrivare al suo appezzamento di terreno se non passando per i campi di altri proprietari che sono coltivati quindi punto a capo. Lì con scavadore togli quella melma che è bagnata e buttare giù un po' di ghiaia e via. Non è che sia poi una frana che è partito le case diciamo è una franetta però la strada è interrotta. Chiediamo al comune che viene ripristinata prima possibile perché ci devo passare per la metitribiatura del grano. Oltre a quello anche i cittadini delle camminate frequentano quella strada. Non è solo per Pierini, è per tutti. Chiusa ormai da più di un mese questa strada versa in condizioni di abbandono visto che nella parte verso la scarpata l'acqua delle violenti piogge ha scavato su tutto il tratto compromettendo così la stabilità del tracciato. Proseguendo più avanti anche via Galantara prima è in cattivo stato. Le buche sono enormi e quando sono venuti a tapparle, a chiuderle, sono arrivati fino a due terzi e poi hanno lasciato fare. Io ho chiamato il comune, ho parlato e hanno sempre detto che la ditta appaltatrice che se ne occupa, però la ditta appaltatrice andrebbe controllata perché altrimenti fa quello che vuole e quindi hanno fatto il lavoro di due terzi sì e no e le buche sono rimaste. Noi abbiamo fatto la segnalazione già da dicembre del 2022 e abbiamo avuto il piacere di vedere gli operai un mesetto fa. Poi tutto va molto a rilento, le buche sono enormi per arrivare a certe case e comunque questa è una strada che porta al cimitero quando le stradine che vanno al cimitero andrebbero tutelate perché ci si deve accedere con facilità. E che dire, è una strada secondaria, questo si sa, però anche le strade secondarie hanno diritto a un certo punto all'attenzione del comune ad essere ben tenute e chiediamo quindi che ci venga, se non altro, ripristinata la viabilità. Arrivati sul posto la strada sembra un vero e proprio campo da battaglia e numerose sono state le segnalazioni dei cittadini inviate a sindaco ed assessore. Andando più avanti la situazione è anche peggio tra fango e asfalto inesistente. Mia suocera che abita in quella casa su in alto, per andare in quella casa lì o si passa dalla parte del cimitero che c'è la frana o si passa da questa strada, come voi vedete la strada è impraticabile anche questa. L'ambulanza se succedesse qualcosa l'ambulanza non passa, il postino un mese che non si vede perché chiaramente la strada è impraticabile. Ditemi voi se è una cosa che possa andare avanti così, ecco, ci vorrebbe dare una sistemata a questa strada. Infine i residenti tengono a far presente la situazione in cui versano anche via Roncaglia e via Tombolina tra buche, avvallamenti e asfalti non eseguiti dopo la rottura della strada per i lavori della nuova conduttura idrica.